Digiuno Economia finisce qui, grazie per l'attenzione e appuntamento a domani. No, candeggina! Tranquilla, è diversa. Mmm, è vero, la candeggina tradizionale avrebbe già scolorito. Mentre Ace Gentile è sicura su tutti i colorati. Il colore è intatto. E il completo è il nastro. Completo. Ace Gentile, sicurissima persino sui colori. Dov'è allora che incide il nostro intervento sul mercato in questa fase? O il mercato aggredisce noi, o noi aggrediamo il mercato. Scusate. Ricordati di comprare duetti di prosciutto. Crudo o cotto. Non chiedere se è crudo o un cotto. Lo sai bene, lei vuole solo... Gran biscotto! Nel dubbio tra crudo e un cotto, chiedi gran biscotto. Ma occhio alla firma. Oggi puoi eliminare la forfora e prenderti cura dei tuoi capelli. Nuovo Claire elimina la forfora. Mentre il complesso biobalancing alla vitamina E restituisce al cuoio capelluto l'idratazione perduta. E i tuoi capelli ritornano forti e vitali. Nuovo Claire con biobalancing alla vitamina E. Imbattibile contro la forfora. Per capelli forti e vitali. Se cerchi il tuo equilibrio, prova Orzoronextreme. È il modo più gustoso di bere naturale. Orzoronextreme. La scelta equilibrata. Lanciati oltre ogni limite conosciuto con Mach 3 DigiLED. Il primo sistema di rasatura con tre lame. Tre lame montate con un sistema unico per radere progressivamente più a fondo. Tu fai una passata, lui ne fa tre. Non devi ripassare sulla stessa zona più volte. Questo significa meno irritazioni. Tre lame. Poche passate. Meno irritazioni. Mach 3 Da Gillette Guardi un po' cosa si sono inventati. Philadelphia Snack. Ha visto? Il grissino affonda nel Philadelphia, sorry. E poi si rituffa. Mmm, buono. Capito? Un nuovo snack. Lo provi prima o poi. È arrivato Philadelphia Snack. Un piacere senza confronti. Andiamo a casa, va? Tanto l'autobus non passa mai. Nuova open course a Station Wagon. La più grande delle libertà è la più piccola delle Station Wagon. È l'amore, l'amore. Quante cose fa fare l'amore. Adesso lei se la pulisci e vedi. L'amore perdona tutti. Un pochino troppo audaci. Comunque segniamo tutto e poi a fine serata. L'amore non vede i difetti. Ha la coscia troppo grande. L'amore risolve tutti i problemi. E se loro si sposano? Loro si sposeranno. Io vado a dormire. L'amore è un'alchimia che dura per tutta la vita. Sabato prossimo una grande giuria. Con Fabio Concato, Lino Banti e tutta la sua famiglia. Per tutta la vita. Ore 20 e 40. Rai 1. Navigator. È un gioco per tutta la famiglia. Due numeri da chiamare. Uno per gli adulti e uno per il giugno. Due numeri per giocare con i quali potrai scoprire e vincere il tesoro di Ulisse. E da casa vostra potrete conoscere meglio il pianeta Terra. Navigator. Questa sera 20 e 45. Rai 1. Vizzare a un giro. Noi per viaggio. Nu mi riesco. V блan み sao?